Sì, per noi è molto importante, come giustamente hai detto te, non è scontato niente in questo campionato, tutte le squadre giocano e giocano fino all'ultima palla. Urbino è sicuramente una squadra che è stata un po' in difficoltà a questo campionato, ma ha dimostrato di voler giocare fino alla fine, quindi merito a loro anche che il terzo set ce l'hiamo dovuto giocare. Adesso abbiamo l'opportunità di fare addirittura meglio del giro di andata che nessuno pensava fosse possibile, quindi io spero che vieni tanta gente con noi al palazzetto di Bergamo, che è un bellissimo palazzetto, sarà una bellissima partita e penso che noi siamo pronti a giocarcela questa partita. È una finale come da adesso in poi tutte le partite saranno finali.